Salve amici, eccoci, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teribea sul canale 89, noi non arriviamo in Sardegna, però i risultati delle elezioni nell'isola della Sardegna sono dei risultati che in qualche modo possono far capire quale potrebbe essere il futuro politico, perché li vedete, qui ci sono vicino alla neoeletta tonde, poi dobbiamo anche dire che la differenza è minima, uno 0,4%, non so in voti esattamente quanto vuol dire, ma sapete, intanto qui c'è sempre il pericolo di qualche ricorso, solo in America non li fanno i ricorsi, anzi Trump li fa, ma con questa differenza io mi preoccuperei, aspetterei un po' di essere sicuro dei numeri, però siccome ha vinto al momento e così c'è questa prova di alleanza a livello futuro, vedete il Movimento 5 Stelle con il PD, questo discorso andrà penso da essere copiato anche in altre realtà, registriamo la soddisfazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che però a questo punto deve garantire che le coalizioni si facciano anche in altri posti, è andata bene qui, ma sappiamo che nel passato l'idea è fallita miseramente. Sentiamo un minuto e mezzo del leader del Movimento 5 Stelle.